Un indagato in carcere, l'altro agli arresti domiciliari. Misure diverse quelle disposte dal GIP di Agrigento per due cani cattinesi di cui sono state fornite solo le iniziali, AG di 37 anni e FC di 23 anni, che erano stati arrestati dopo essere stati trovati in possesso di cocaina, eroina e crack, di cui una parte già suddivise in numerose dosi pronte per l'accessione ai consumatori. I poliziotti della squadra mobile di Agrigento, insieme ai colleghi del commissariato di Canicattì, hanno trovato in possesso dei due presunti pusher anche denaro contante e materiale necessario per il confezionamento, il taglio e la pesatura delle dosi da rivendere. Durante l'operazione è stata riscontrata la presenza di persone minorenni, le quali sono state affidate ai parenti più prossimi, secondo quanto disposto dai magistrati della Procura dei Minori di Palermo, competente sul territorio agrigentino.